Oggi vi voglio spiegare che cosa vuol dire la parola letargo, cosa significa per un animale fare il letargo, nel nostro caso per le tartarughe. Il letargo è un periodo in cui le attività metaboliche vengono ridotte al minimo, questo permette all'animale di passare dei periodi in cui non sopravvivrebbe. Quando questa fase viene svolta in inverno si chiama ibernazione, quindi per le tartarughe il letargo si dice ibernazione. Cosa vuol dire ibernazione? Vuol dire che viene svolto nel periodo invernale e quindi al freddo. Questo è il motivo per cui l'unico modo per far svolgere il letargo alle tartarughe è di tenerla fuori al freddo. In questi giorni moltissimi mi ha scritto che le tartarughe sono morte durante il letargo, poi quando chiedo dove hanno fatto il letargo? In casa. In casa una tartaruga non fa il letargo, in casa una tartaruga sta sveglia senza mangiare, quindi non fa abbastanza freddo per andare in letargo, in ibernazione e non fa abbastanza caldo per nutrirsi, perché il metabolismo non si attiva, col risultato che una grande sopravvive, una piccola spesso diventa molle e muore. Quindi per far svolgere un regolare letargo la tartaruga deve rimanere fuori. L'alternativa, se c'è una valida motivazione di tenerla sveglia sotto lampada UV. Grazie. Grazie.